Quest'anno ci facciamo in quattro. Dopo lo scorso anno, in cui siamo stati presenti con ben tre eventi, l'avventura alle piramidi di Visoko in Bosnia, il ritiro Vita Straordinaria a Tarifa e il DC Live che abbiamo tenuto a Rimini, abbiamo tenuto la quarta edizione di questo evento dove tutta la community si ritrova, sono qui proprio per parlarti del primo evento che faremo dal vivo in Italia, tra l'altro in Maremma. Cosa ha di speciale questo ritiro? Beh, la maggior parte delle persone, e in questo periodo sono anche in contatto con tantissime persone con cui sto facendo delle chiamate proprio per conoscerle perché stanno entrando nella nostra community, vedo che tutti vogliono essere felici. Il problema è che delegano la loro felicità all'esterno, delegano la loro felicità a qualcosa che non gli può dare soddisfazione, fanno l'errore madornale di cercare delle situazioni esterne che possano portarli felicità, ossia vogliono una relazione di coppia, vogliono avere delle persone attorno a loro che li facciano sentire bene, che li facciano sentire importanti, vogliono sentirsi appagati con un lavoro che magari non gli appartiene, hanno paura di mettere in atto il cambiamento perché temono le conseguenze di questo loro cambiamento, temono che le persone si allontanino da loro, temono di rimanere sole, temono di essere viste come strane. Insomma, le persone fanno una serie di errori tra cui anche inseguire i sogni sbagliati che gli vengono proposti dalla famiglia, dalla società e da tutto quello che è l'entourage di persone che li circondano, ma non si concentrano sulle cose veramente importanti, ossia essere la loro versione più autentica. Come si fa a tirare fuori la loro versione più autentica? Beh, quello che hai bisogno di fare, se vuoi tirar fuori la tua versione più autentica, è proprio andare a rimuovere quelli che sono blocchi, paure, resistenze, e tutto ciò che ti impedisce di far emergere la tua versione migliore, ma non solo la versione migliore. Quello che tu puoi essere ha un livello più elevato rispetto a quello che ti sei permesso di essere fino ad ora. Le persone vedono se stesse come un'ombra rispetto a quello che hanno la possibilità di essere. E questo perché tutte le paure, tutti i condizionamenti, le esperienze limitanti, quello che ti è stato detto dalle persone attorno a te che magari o cercavano di tirarti giù, oppure semplicemente si riferivano a modelli limitanti rispetto alle tue possibilità. Che cosa ha fatto tutto questo? Ha abbassato il tuo livello di consapevolezza, di autostima, la tua capacità di vedere te stesso per quello che sei. E questo ti porta una marea di problemi nella vita. E questo lo potrai vedere. Perché? Perché tu non hai accesso al tuo potenziale. Il tuo potenziale è quello che ti permette di realizzare i tuoi sogni, di essere chi sei, di buttarti in un'avventura che ti sta chiamando, di affrontare la vita con serenità, di aprirti ad una relazione sana in cui hai la possibilità di condividere la vita, i tuoi sogni con un'altra persona, senza appoggiarti, senza essere dipendente da essa, essere libero dal giudizio degli altri. E molte persone si impediscono di essere chi sono proprio perché hanno timore, terrore del giudizio degli altri, perché potrebbero giudicarli strani, allontanarsi da loro. Anche quando queste persone magari non sono persone affini. E questo ti snatura. Come puoi realizzarti ed essere felice quando sei snaturato? Ho creato per la prima volta un meccanismo particolare che ti aiuterà a fare dei passaggi incredibili in soli tre giorni. Andremo a lavorare in modo molto, molto profondo su quelle che sono le tue difficoltà, i tuoi blocchi, le tue resistenze con il metodo vita. Cosa fa il metodo vita? Intanto vai a lavorare sulla visione, sulla visione di te a livello più elevato. Poi lavori attraverso l'intenzione, la trasformazione e poi l'azione concreta. E questo porta a un cambiamento radicale nella tua vita. È una cosa che metto a disposizione per la prima volta. Neanche le persone che stanno facendo i percorsi avanzati hanno mai lavorato in questo modo. E quindi sarà veramente bello vederti all'opera, vederti mentre fai la tua trasformazione tanto che quando tornerai a casa e ti guarderai indietro non ti sembrerà nemmeno di riconoscerti. Immaginati le belle cose che potrai realizzare essendo autenticamente la tua versione più elevata, essendoti liberato da tutti quelli che sono paure, blocchi, resistenze che magari ti assillano da un sacco di tempo. E tutto questo lo so che sembra tanto, ma è possibile. Se vuoi vedere le testimonianze che trovi in questa pagina vedi le persone che hanno partecipato al nostro ultimo ritiro che risultati hanno avuto. Alcune persone hanno superato la paura dell'acqua che avevano da quando erano piccole in pochi minuti. Proprio perché semplicemente io so come aiutarti a superare tutte quelle che sono le resistenze, i blocchi che ti hanno impedito finora di essere la persona felice che hai il diritto e che meriti di essere. Quindi se vuoi essere con noi in Toscana mi raccomando prendi appuntamento con il tuo tutor perché i posti sono limitati, veramente, perché abbiamo un agriturismo che abbiamo riservato per intero ma ha pochissimi posti e quindi noi vogliamo essere sicuro che se vorrai partecipare tu sia pronto e disposto a metterti in gioco per ottenere i migliori risultati che meriti di avere. Quindi sarai con noi, ci vediamo in Toscana. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!